Mi permetterò di interromperti quando arriveranno gli aggiornamenti della gara femminile perché anche qui ci avviciniamo al gran finale. Pietro Arese, cosa hai visto? Beh, bellissimo seguire la gara così diretta diciamo i primi chilometri sono stati all'insegna di molti cambi di ritmo da parte dei vari atleti che erano molto in più i testi per provare a scramare